insomma qual è stato uno allora finali che mi sono piaciuti per esempio quella dell'attacco dei giganti mi è piaciuto e per finale non intendo solo l'ultimo capitolo secondo me la gente oramai è impazzita non arriva a capire che il finale dell'attacco dei giganti è finito con il capitolo 138 il capitolo 139 è l'epilogo è quello che serve al lettore per capire le ultime motivazioni e darti una panoramica generale ma l'attacco dei giganti è finito ufficialmente col capitolo 138 è come quando è come quando finisce il signore degli anelli faccio l'esempio col film che lo conoscete senza spoilerarvi il libro il finale qual è? è Frodo lì con l'anello al monte Fato e succede quella roba lì tutti quei 20 minuti finali non sono al final è l'epilogo nel romanzo quell'epilogo è peggio molto più lungo ma il finale è quello Frodo arriva come finisce la storia finisce in quel modo finisce in quel modo ho capito che la gente si è lamentata del finale perché chissà che cosa si aspettava da queste 50 pagine si aspettavano chissà quali stravolgimenti del mondo si aspettavano chissà quali risoluzioni un po' come la gente che chissà cosa si aspettava dal capitolo 1000 di One Piece si aspettavano tutto lo spiattellamento dei 100 anni di vuoto il One Piece Gold Rock si aspettavano chissà che cosa la gente non ha capito che il 139 doveva chiudere qualcosa che in realtà era già chiuso Eren ha fatto quello che ha fatto lo scontro si è concluso in quel modo capiamo che fine fanno i personaggi quello doveva fare e quello ha fatto quello ha fatto ma che cosa volevate vedere di più quello ha distrutto il mondo ha distrutto l'80% del mondo ha fatto una battaglia finale totale tombale con tutti i giganti dell'universo e quello non è perché è quello il finale è lui che distrugge il mondo e i suoi amici che lo fermano con lui che cerca fondamentalmente di opporglisi con tutti i giganti del mondo quello è il finale quello è il finale ma gente che si aspettava non lo so ma più tragedia di quella io non lo so il 139 doveva chiudere ok hai visto la battaglia finale totale tombale che davvero più finale totale tombale di quella non esiste il mondo come si struttura perché Eren ha agito così anche se c'eravamo arrivati tutti e non fa niente il fatto di esserci arrivati significa che il fumetto è stato coerente il fatto che molte persone anche io avevo fatto un video nel quale dicevo alla fine Eren che ha fatto lo stronzo ma perché quello voleva fare va bene non è una scammata significa aver seminato bene nel corso di tutta la storia editoriale del fumetto quello significa vi sareste dovuti preoccupare se alla fine Isayama impazziva faceva la fantascienza sul serio così a caso ma non l'ha fatto così come secondo me così come si voleva il finale cupo ma ma ragazzi ma credetemi ma il finale cupo che cosa significa lui doveva distruggere tutto il mondo se avesse distrutto tutto il mondo e quindi davvero secondo me poi la gente il fumetto non lo legge o non l'ha mai letto sarebbe andato contro il fumetto stesso perché Eren è vero che è un egoista del cazzo ed è egoista fino alla fine però all'interno del fumetto gli amici suoi effettivamente li ha sempre trattati con il dovuto rispetto li ha sempre voluti bene non avrebbe mai potuto uccidere tutti i suoi amici perché sarebbe andato contro la filosofia del gigante che avanza il gigante che avanza è quello che protegge comunque la giustizia l'ideale di Eren è un ideale di giustizia totalmente distorto perché Eren mettetevi di nuovo nei panni di un bambino del cazzo che cresce e nasce in un mondo chiuso totalmente chiuso fuori ci sono i giganti viene invaso li distruggono o si autodistrugge in questo caso la famiglia e cresci con la voglia di rivalsa distruggi le mura uccidi i giganti ti rendi conto che i giganti non sono i tuoi amici i giganti sono quelli che stanno all'esterno e tu per proteggere le poche persone che davvero comunque con cui sei cresciuto quindi i tuoi amici e Mikasa e Armin distruggi l'umanità è un ideale distorto sì lui è criminale sì ma se avesse ucciso tutti sarebbe andato contro 138 capitoli del manga perché tutto quello che ha fatto Eren l'ha sempre fatto con questa spinta comunque distorta ma altruista Eren sin da bambino li voglio uccidere tutti mi voglio vendicare voglio che voi siate felici e contenti Eren questo ha fatto e arriva a capirlo questo uccide praticamente l'80% dell'umanità mette tutti sullo stesso piano e quindi dalla visione del resto del mondo è criminale perché è criminale per gli indiani è un dio perché gli indiani è il dio è il dio che li ha messi sullo stesso piano degli altri quindi adesso gli indiani se la possono giocare alla pari ma soprattutto tutto viene lasciato nelle mani dei suoi amici quando lui dice Armin tu fuori dalle mura te la puoi cavare perché lui si rende conto che lui senza le mura senza un nemico lui non è niente Eren a Eren serve un nemico serve un nemico per dargli una ragione d'essere lui si sente libero solo se ha un nemico da uccidere perché li vuole uccidere tutti Armin no Armin è sempre quello che ha sempre cercato di tendere una mano al nemico se voi vi andate a leggere il fumetto è sempre quello che aveva cercato di capire anche lui che cosa erano i giganti perché ci sono ma si può trovare un metodo per capire era quello che quando arrivano gli eldiani i marleyani vuole tendere una mano era quello che dice ma perché questi li dobbiamo invadere ma non possiamo trovare una soluzione pacifica ed è quello che coopera con Bongo alla fine ed è quello che addirittura cerca quasi di salvare moralmente Eren quando lui dice faremo che questo tuo errore non sia stato in vano e quando lo picchi dice non ti ha ancora perdonato in realtà l'ha perdonato Armin lì emenda i peccati di Eren che sono però imperdonabili perché Eren è il più grande criminale del mondo Eren è il più grande criminale del mondo però quello è il suo miglior amico e che gli vuoi dire Eren e Armin ha sempre avuto questa spinta di compenetrarsi nell'altro e infatti Armin è l'unico nel fumetto alla fine che dice sì questo piano funziona sì voi siete stati traditori della patria di tutte e due le patrie ma siete gli unici che conoscono la storia perché avete sofferto tramite la sofferenza si può magnificare la nostra esistenza e quindi si possono lenire i nostri dolori si può provare amore e quindi essere liberi e Armin è l'unico ed è l'unico che fuori dalle mura può davvero raggiungere quella pace che Eren spera si raggiunga ma questo non lo dico io questo te lo dice il fumetto in 139 capitoli ma io la gente non lo so che cosa ha letto io forse sono più fortunato perché rispetto a molti altri l'attacco dei giganti me lo sono letto con voi qui su Twitch giorno dopo giorno quindi ho avuto una visione molto di insieme coesa però mi rendo conto che magari leggerlo una volta ogni tre mesi oppure una volta al mese la gente si scorda è un po' come One Piece lo dico voi non pensate che mi ricordi tutto One Piece io c'ho i bugi di One Piece però le cose fondamentali ancora ancora me le ricordo ma quando leggi un fumetto per così tanto tempo protratto nel tempo mi rendo conto che non te lo ricordi però il fatto di non ricordartelo è un problema tuo il fumetto è coerentissimo con quello che racconta con un finale che a mio modo di vedere è tutto coerente moltissimi credono che il 139 abbia lasciato troppi punti risolti tipo che fine fa Ymir sfogliatori della reaction dell'animo un bacione agli amici di The By Craft anche quello secondo me è non aver letto bene il fumetto quando nell'ultimo capitolo Eren dice che Ymir aspettava una come Mikasa perché Ymir e grazie a Piercarchi per essersi abbonato grazie mille salutiamo la pelata perché dice quello perché Ymir si rivede in Mikasa e quando nello scorso capitolo e nell'ultimo capitolo dell'attacco dei giganti Mikasa fa quella scelta quello è il suo turning point perché l'aver ucciso Eren significa aver fatto l'esatto opposto di ciò che Ymir ha fatto per Refritz Ymir rimane imprigionata dall'amore per Refritz tanto da rimanere letteralmente sua schiava per duemila anni con tutti i problemi che comporta anche Mikasa sarebbe potuta rimanere schiava dell'amore di Eren ma decide di sacrificare il suo amore per il bene comune uccidendolo anche se poi alla fine noi vediamo che rimane come ci rimane sotto perché Eren quello vuole stronzo io non lo so la gente cosa abbia letto davvero non lo so so solo che secondo me se la gente poi è criticabile il finale può non piacere dico quello io lo trovo molto coerente io lo trovo molto coerente gli altri dicessero e vi do le mie motivazioni naturalmente poi gli altri raccontassero quello che vogliono se volevano i missili terra-aria spaziali volevano le astronavi aliene non lo so che voleva la gente non lo so questo non lo posso sapere questo me lo fribbuto da solo vi faccio un nuovo pezzo sull'attacco dei giganti un saluto a fribbuta sì sì questa parte va su youtube ma me la fribbuto da solo me la fribbuto da me dico perché il finale dell'attacco dei giganti è un bel finale a fribbuto